Carlo Meucci visse in Sicilia, a Mazzara del Vallo, Marsala, Barcellona, Pozzo di Gotto, Sant'Agata di Militello, Messina e Patti, ovvero Tindari, dove è morto nel giugno 1966. La sua fu una storia di migrante, come lo fu quella del padre. Una ricostruzione meticolosa nel tentativo di ricomporre le tessere del mosaico della vita di Carlo Meucci. Un mendicante che concluse la sua esistenza a Patti dopo un lungo girovagare per la Sicilia e che, come egli stesso raccontava, era figlio scomodo di Antonio Meucci, inventore del telefono e raffinato cervello italiano trasferitosi in America, dove avviò una fabbrica di candele insieme a Giuseppe Garibaldi. Una storia, quella di Carlo Meucci, che Mimmo Mollica ha saputo trasformare in un libro intenso dal ritmo serrato che va oltre il racconto storico. C'è infatti nel volume pubblicato da Armenio Editore la forte volontà di restituire l'identità e la dignità di un uomo, figlio di un grande inventore, finito per le circostanze della vita a vendere medagliette al Tindari. Quella del padre Antonio Meucci fu anche una storia di cervelli in fuga dall'Italia e poi c'è di mezzo la questione del brevetto. Meucci non brevettò l'invenzione del telefono per mancanza di denaro, ma forse anche per la sua forma mentis. Lui pensava ad inventare, non pensava a brevettare la burocrazia. Ecco, da questo ne discendono tutta una serie di disvalori, a cominciare dal mancato riconoscimento dell'identità, per la quale ragione noi non dovremmo esitare a richiedere la prova del DNA. Quindi si può ancora fare per avere certezze sull'identità di quest'uomo? Sì, io ne ho parlato con Carlo Lucarelli, autore di Blu Notte, tanto per intenderci, che è l'ultimo erede, uno degli ultimi eredi di Antonio Meucci, perché la nonna di Carlo Lucarelli è nonna della nonna, in sostanza, ecco, ufficialmente. E c'è l'intenzione di procedere verso una ricerca della vera identità, perché il mancato riconoscimento dell'identità di un uomo non è soltanto un danno individuale, personale, ma è un danno verso la società scientifica e la società civile.